In una terrina versiamo mezza confezione di quark. Aggiungiamo 125 g di latte scremato, adesso mescoliamo bene per amalgamare il quark con il latte. Per amalgamare meglio vi potete aiutare anche con un frullatore ad immersione. Una grattatina di buccia di limone, poi una quindicina di gocce di aroma all'arancio e poi un misurino e mezzo di dolcificante fiorentini. Mescolate tutto per bene, dopodiché siete pronti per riempire i vostri stampini. Adesso mettiamo nel freezer e lasciamo per almeno 12 ore. Ciao! 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 Grazie a tutti.